Mary Jane ASMR Ciao ragazzi bentornati o bentrovati sul mio canale per chi non mi conoscesse ancora io sono Mary Jane ASMR se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel pollice in su se vi piacciono i miei video allora ragazzi oggi vi voglio portare un video un po' particolare che sta spopolando tanto all'estero e che mi è capitato di vedere su tik tok un nuovo se si può dire un nuovo tipo di asml che ho sperimentato lì su tik tok in formato verticale quindi lo porto in orizzontale e sto parlando sto parlando del del dello speed painting ASMR una modalità di fare ASMR un po' bizzarra con la saliva che a me è piaciuta quando l'ho vista per la prima volta mi ha colpito un po' come quando scopre i video bounce out click vabbè sono diversi però mi ha portato quel ricordo lì di quando scopri quei video mi è piaciuto si è fatto bene può rendere bene io l'ho portato su tik tok appunto e ho avuto un buon riscontro da parte vostra ho chiesto se questa tipologia di video la volevate vedere su youtube anche perchè è una novità e in tanti mi hanno detto di sì quindi oggi al via con lo speedpainting e come farlo se non facendo finta di aggiustar di truccarvi ora viste? ok? allora per prima cosa ti devo mettere un po' di fondotinta il fondotinta non l'hai messo perciò te lo metto io quindi sto un po' fermo perchè ora ti aggiusto ok? ok 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 ancora un altro po' mi sa che ce n'è bisogno ancora un altro po' perchè bisogna sfumare bene qui 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 devo aggiustarmi la chocoletita ok qua, i bordi, qua, 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 i bordi, i bordi, qua si adesso va meglio ok, 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 ok bene ma adesso non può mancare l'ombretto perché l'ombretto è parte fondamentale dello sguardo, no? come anche il mascara chiaramente faccio io, scelgo io il colore va bene allora facciamo così andiamo sui colori chiari, ok? vabbè, andiamo sui colori chiari perché è troppo scuro, non ci sta, non va bene, no? facciamo un colore per l'occhiare che ne dici di questi due? che ne dici di questi due qua? ti piacciono? sì, sì oh sì, anche questo con la tecnica dello speed painting certamente bene 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 andiamo a mettere un altro po', poi vediamo questo qui, questo da sfumare top, adesso mi servirò delle dita però perchè con le dita sfumo belle, eh si, con le dita sfumo belle se allora, si no, sono buoni questi ombretti, durano, poi con la speed painting durano ancora di più e poi vediamo qui e poi vediamo qui beh io sono rimasta soddisfattissima allora dell'ombretto sono proprio soddisfatta come dal fondotinta perfetto perfetto ok dobbiamo applicare il mascara dobbiamo applicare il mascara sì certo hop up 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 Sguardo intenso, però adesso devo dare una aggiustatina anche alle sopracciglia una aggiustatina alle sopracciglia oh, perfetto non stanno meglio adesso, sì, così sì, 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 ok bene, 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 bene ora passiamo all'ultimo, 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 all'ultimo step all'ultimo step, direi l'ultimo ti metto del lip gloss ti metto questo che è trasparente, ok? oh, non ti preoccupare sempre speed building ok 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 un po' di più no un po' di blush e sei perfetta ragazzi spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta naturalmente è fatto per rilassare grazie per aver seguito tutto il video siete arrivati fin qui sappiate che per me è un enorme piacere avervi trovati fino a questo punto ciao ragazzi scrivetevi nei commenti come ne pensate almeno io l'ho riportato così alla mia maniera ciao ragazzi al prossimo video ciao ciao ciao